buongiorno ragazze bentornati in un nuovo video oggi motivazionale sulle pulizie da quando ho avuto i gemellini le mie routine sono radicalmente cambiate e giorno dopo giorno sto cercando quella più giusta e adatta a noi non tutte le giornate sono uguali ci sono dei giorni che riesco a fare più pulizie dei giorni meno dipende un po dall'esigenza dei piccolini e ovviamente anche da alex ovviamente alex si comporta veramente benissimo da un super fratello maggiore quelli che hanno più bisogno di attenzioni ovviamente sono i gemellini per cui io mi sto prendendo tutto il tempo e sto dando le necessità e le priorità prima a loro due e ovviamente a loro tre quella mattina era andata particolarmente bene difatti vedrete che cambierò le lenzuola ai gemellini le lenzuola al nostro lettone pulirò per bene le finestre della camera farò la polvere la vero a terra e darò una bella pulita anche al bagno in più ero riuscita a fare anche la cucina ma vi farò un video a parte diciamo che ogni mattina cerco di pulire far reggiare la stanza e pulire ovviamente il bagno queste sono le mie priorità ovviamente poi c'è anche la cucina ma quella cerco di farla sempre la sera in modo da non averla la mattina inoltre nel pomeriggio faccio sempre la camera al piano di sotto ma per quella vi farò anche per quella un video a parte come vedrete i mobili sono cambiati e vi farò un home tour aggiornato in breve tempo e nulla insomma spero che questa mia morning routine vi faccia piacere a fine video vedrete anche la bagnetto la routine per i gemellini che faccio sempre dopo aver fatto le pulizie ovviamente poi la sera vi faccio anche il bagnetto per quello lo rilassa veramente tanto spero che il video vi sia piaciuto vi abbia motivato e ci vediamo alla prossima un abbraccio ciao 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 ciao